Ritorniamo nuovamente in acqua per andare a seguire anche la gara 43 oramai in chiusura di questa giornata in acqua numero 1 è la canottieri Eridania, Gabriele Bergomi, in acqua 2 Luca Sabatini della canottieri Ravenna in acqua 3 Fabio Maffiola della canottieri Luino, in acqua 4 è il circolo canottieri Niene Nicola Montuori in acqua 5 per Daloi Andrea Pascale, in acqua 6 Larno Alessio Montagnoni, in acqua 7 l'Unione canottieri Livornesi Alessandro Toni in acqua la Marina Militare Emanuele Bascola, siamo in chiusura e sono proprio i colori della Marina Militare all'esterno del campo ad andare ad imporsi sui diretti avversari per la seconda e terza posizione lotta ancora aperta con Fabio Maffiola della canottieri Luino e l'acqua 1 Leridania, Gabriele Bergomi siamo sul traguardo, passa l'aluino e argento per Fabio Maffiola e Gabriele Bergomi a completare con i colori della canottieri Eridania queste le sorti sul traguardo per completare la sfida del 7-20 canetti maschi cerimonia di premiazione premiazione 7-20 canetti maschile gara numero 43 a premiare sempre il delegato dell'Emilia Romagna Alessio Galletti al terzo posto è la canottieri Eridania, Gabriele Bergomi al secondo posto medaglia d'argento la canottieri Luino, Fabio Maffiola vince il 7-20 canetti maschile la 29esima finale gara 43 la marina militare Emanuele Mastola vince alla grande la marina militare Emanuele Mastola raccontarci le proprie emozioni la marina militare il gradino più alto del podio un bellissimo risultato per te raccontaci prima di entrare a parlare della marina qual è stato il momento più bello di questa gara il momento più bello sono stati gli ultimi 500 metri in cui ho chiuso e sono riuscito a superare l'agversario cosa hai fatto per riuscire a superarlo? ho provato diverse progressioni fino a recuperarlo e sorpassarlo e poi ovviamente sei riuscito qual è la cosa più bella della marina militare? l'entusiasmo che abbiamo nelle ledi la voglia di fare e la forza è vincere noi vogliamo sempre vincere voi vincete e siete sempre bravissimi a vincere ma quali sono i consigli? non vi danno mai dei consigli? magari i campioni? sì come ad esempio andare in barca cioè rispetto a tutti e onore a nessuno bravissimo e forza la marina militare questa medaglia d'oro ci dà l'appuntamento a domani con il molito di jennifer la marina militare la marina militare ma non vi danno anche la marina militare la marina militare Grazie a tutti.